Il modo di fare il T in Italia negli ultimi anni ha cambiato rotta. A cosa ci riferiamo di preciso quando parliamo di cloud? Con questo termine ci riferiamo ad un insieme di tecnologie che permettono di fornire servizi e software ad un cliente grazie all'utilizzo di risorse distribuite e di rete. Uno dei punti di forza è la scalabilità. Qualunque tipo di risorsa, che sia storage, memoria o CPU, potrà essere allocata in base a specifiche esigenze. Questa flessibilità garantisce un notevole risparmio in termini economici. Verranno utilizzate solamente le risorse nel momento in cui si ha effettivamente bisogno. Non si dovrà in questo modo dimensionare a priori l'hardware, ma si potrà modellare in base alle reali necessità. Con questa tecnologia le aziende possono ottenere numerosi vantaggi organizzativi ed economici. Solo nell'ultimo anno le PMI hanno registrato una crescita del 70% nella spesa in questo settore. Grazie al cloud riusciamo ad ottenere alti livelli di ridondanza, sicurezza e performance. Come si web, ad esempio, offriamo uno slide del 99,9%, un programma di assistenza che permette di avere un tecnico specializzato 24 ore su 24, in modo tale che il cliente possa concentrarsi esclusivamente sul suo business.